ciao ragazzi in questo video vorrei parlarvi dei tradizioni dei nativi americani previo il fatto che però vorrei darvi proprio due spunti anche se assolutamente non sono uno storico e ci tengo assolutamente a non prendermi competenze che non ho però due informazioni prima di passare in video successivi a raccontare tradizioni e magari qualche qualche mito e leggenda di nativi americani parlarvi un attimo della loro storia quindi vi do proprio due informazioni e il video conto che sia breve allora nativi americani è il termine che si utilizza attualmente più politicamente corretto per definire molte popolazioni diverse dell'america le quali hanno tutte quante in comune una origine comune un'origine comune lontanissima nel tempo e che in un periodo successivo molto lungo li hanno differenziati per cultura tradizione e lingua e sono poi si sono poi dispersi arrivando ad occupare nel periodo di massima espansione dall'estremo nord del continente americano fino ai territori del cile e dell'argentina quindi praticamente tutta l'estensione del continente molte di queste tribù in alcuni luoghi arrivarono a formare delle civiltà vere e proprie ecco io in realtà mi concentrerò a parlarvi dei nativi americani intesi come quelli stanziati nel territorio dell'america degli stati uniti degli attuali stati uniti pare che la popolazione antica dei nativi americani si separò dalle popolazioni del nord est asiatico che inizialmente erano loro ceppo originario tra i 36.000 e 25.000 anni fa per poi spostarsi verso l'alaska intorno a 20.000 anni fa e successivamente in un arco temporale che va e scusate le tante date dai 17.000 ai 14.000 anni fa si diede origine ai gruppi che hanno rappresentato la popolazione indigene del nord america e del sud america per fare questo attraversarono per andare dall'oriente fino al nord america la berinja che al tempo era la denominazione che al tempo era un ponte terrestre che collegava la siberia orientale e l'alaska prima che alla fine dell'ultima era glaciale si formasse quello che attualmente è lo stretto di bering da qui deriva che un nome che accomuna queste popolazioni indicandole nel periodo più antico è proprio popolazione beringe o comunque berinji la definizione di indiani d'america deriva da pare derivare da un errore di cristoforo colombo che come sappiamo era la ricerca di una rotta più conveniente per andare in asia e quando giunse per la prima volta nel 1492 la data è famosissima sull'isola di spagnola che oggi è divisa tra gli stati di haiti e la repubblica dominicana convinto di essere sulle coste dell'india in una lettera del 1493 descrisse la presenza degli indios questo termine insieme a quello di pelli rosse perse prese poi piede in tutto il vecchio continente per questo motivo il termine indiani quindi introdotto dagli europei andò ad escrivere tutte le popolazioni stanziate nel continente americano perché queste fossero moltissime ed estremamente differenti tra loro nel centro sud america esistevano vere e proprie civiltà avanzate abbiamo detto e quali maya gli aztecchi e gli inca mentre al nord le popolazioni erano di tipo più nomade o seminomade ed erano legate al concetto di tribù è da premettere che definire la cultura dei nativi americani e per la loro eterogeneità delle popolazioni che comprende questa definizione mi costringe ovviamente a fare delle generalizzazioni e soprattutto se andiamo a pensare che queste tribù tra loro spesso oltre ad avere delle culture differenti erano in guerra in conflitto tra loro inoltre c'è da ricordare che gran parte della documentazione a cui possiamo fare riferimento su queste tribù fu raccolta verso la fine del diciannovesimo secolo anni in cui questi popoli erano già stati sottomessi e quindi avevano già avuto una parziale cancellazione di quella che era il loro modo di vivere più 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 tradizionale una sottomissione avvenuta con l'utilizzo di armi di malattie di epidemie con la vendita di alcol e l'imposizione di nuove fedi in conflitto con le loro religioni precedenti nativi americani non utilizzavano la scrittura in modo sistematico e la maggior parte dei racconti di queste popolazioni avvenivano oralmente descrivendo attraverso la poesia la musica i balli il teatro la pittura e la magia i racconti legati ad ogni aspetto della loro vita sempre a stretto contatto con il mondo naturale e diciamo che questo forse è uno dei pochi aspetti che anche il cinema è riuscito a passarci in modo corretto uno dei pochi i miti le leggende e i racconti rituali erano alla base della cultura delle loro popolazioni e dei nativi americani della degli usa la nostra tradizione vuole come stereotipo la figura delle popolazioni delle pianure cioè della zona delle praterie che vanno dal canada centrale fino al messico e dal mid west fino alle montagne racciose in particolare quello che ci ha passato la cultura cinematografica sono le tribù quelle che noi europei uniamo di più al concetto di indiani sono le tribù dei siu e degli sheyenne che sono caratterizzati da storie che descrivevano la si singolo uomo don nella sua individualità con canti d'amore canti di lutto per i propri familiari e celebrazioni di cacciatori e di guerrieri una particolarità che vi segnalo è data dal fatto che noi italiani utilizziamo la parola indios che è un termine spagnolo col significato per indicare le popolazioni che vivevano al centro sud america mentre in spagna indica la totalità delle popolazioni amerinde del nord e del centro e del sud america ecco detto questo io chiudo questo questo video e conto che se non nel prossimo perché magari spezzerò gli argomenti ma in quelli successivi vi racconterò anche qualche loro mito tradizionale ok intanto vi saluto ancora